Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Cioè di garantire chi è sotto inchiesta, indagato, sotto indagine e di volere la certezza della pena. Cioè che una volta che una pena è combinata che venga anche eseguita. Allora cominciamo proprio dalle parole della Meloni. La Meloni pone due questioni che purtroppo non sono attuate oggi in Italia. Nel senso che non c'è garantismo, c'è il garantismo che puoi avere l'avvocato, che c'è i tre gradi di giudizio. Però mentre accade tutto ciò, le procure danno ai giornalisti fascicoli di intercettazione, vengono sparate sui giornali, vengono rovinate delle vite e dopo che la vita è stata rovinata tu vieni assolto. E questo non è possibile. Quindi Nordio, attenzione, non ha detto che bisogna abolire le intercettazioni come qualcuno vuol far credere. Ha detto meno intercettazioni e meno fondi per le intercettazioni. Siamo un paese che spende un sacco di soldi per le intercettazioni perché i pubblici ministeri non fanno più le indagini come si facevano una volta. Avendo scoperto che attaccando uno spinotto è molto più comodo perché vengono a sapere tutto quello che fanno le persone indagate, gli è molto più comodo. Quindi ridurre le intercettazioni è cosa utile se si vanno a tagliare non le intercettazioni di mafia che sono indispensabili e che non possono essere tagliate, ma le intercettazioni su reati che sono dei reati sui politici e sul potere. Non parlo del potere, Marco, però fammi parlare perché io non ti ho interrotto. Quindi non ha detto stop alle intercettazioni, ha detto che non possono essere utilizzati per delegittimare le persone, che è una cosa completamente diversa. Poi separazione delle carriere. Allora io ho visto, sono stato testimone una volta di un pubblico ministero e un giudice che sono arrivati in macchina insieme al processo. Adesso ditemi voi, se è possibile che colui che ti accusa e colui che ti deve giudicare come terzo perché sono due parti alla pari, l'accusa e la difesa, possa arrivare in macchina insieme. Cioè mai cambiato idea rispetto al 2010 come dice Travaglio? Non mai cambiato idea sulla separazione, non mai cambiato idea su questo. L'obbligatorietà dell'azione penale è un'anomalia tutta italiana, così come fu fatta perché usciti da un ventennio del fascismo, ovviamente la Costituzione previde tutta una serie di garanzie molto ampie perché si è uscita a un momento di controllo politico della magistratura. In Francia il ministro della giustizia va in Parlamento e dice è interesse del governo, che ha il voto degli elettori francesi, per seguire prioritariamente questi reati. Invece con la scusa dell'obbligatorietà dell'azione penale. Un PM ha 100 fascicoli. Se il fascicolo grave non lo fa andare in prima pagina sui giornali, lo lascia lì. Se il fascicolo molto meno grave lo fa andare in prima pagina sui giornali, tira fuori quel fascicolo e decide lui. Ed è l'ambito di cui parla Nordio. Allora... Allora... Allora...